Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come poter far comunicare tra loro Arduino e Processing. In particolare farò vedere come fare a inviare un messaggio da Arduino a Processing. Vedremo il viceversa e il contrario, quindi come fare a inviare un messaggio da Processing a Arduino in un video successivo. La collaborazione di questi due strumenti, Arduino e Processing, può essere molto interessante nell'ambito artistico, infatti voi potete far sì che il vostro gioco, la vostra animazione, il vostro contenuto interattivo scritto in Processing subisca in qualche modo l'influenza di un'azione compiuta da un agente esterno, quindi uno spettatore o l'artista stesso, su di un sensore collegato ad Arduino. Immaginate di avere Arduino con connesso uno o più sensori, Arduino leggerà il valore di questi sensori, in base al valore a letto deciderà di inviare un determinato messaggio a Processing. Processing, una volta ricevuto questo messaggio, deciderà appunto che azione compiere, quindi cambiare colore, dimensioni, forme, attivare contenuti multimediali. Le combinazioni sono infinite, le possibilità sono infinite. Ora in questo caso mi interessa solo far vedere come far comunicare i due, quindi l'esempio che vi porto non ha niente di artistico, è abbastanza semplice, ho un pulsante collegato a un pin digitale di Arduino, premendo il pulsante vado ad inviare un messaggio sulla seriale, Processing, prende questo messaggio e lo visualizza a video. Bene, partiamo dal codice per Arduino. Non entrerò nei dettagli relativi a come far collegare il pulsante, a come far leggere il digitale, perché suppongo che parto dal presupposto che lo sappiate lì già. Se così non fosse, vi consiglio di seguire il nostro corso Arduino partendo da zero. Bene, analizziamo un attimo il codice rapidamente. Allora, inizialmente ho definito due variabili, una è la variabile che identifica il pin digitale a cui connesso il pulsante e l'altra è la variabile cnt che è un contatore che mi servirà a contare i messaggi inviati. Nel setup, cosa è essenziale fare? In essenziale, inizializzare la seriale. In questo modo, serial.begin e impostando la velocità con cui vogliamo che avvenga la comunicazione seriale. Dopodiché qua ci sono dei settaggi per il mio pulsante, ma andiamo avanti. Nel loop cosa faccio? Leggo lo stato del digitale e quando il pulsante è premuto, entro all'interno dell'if, incremento il contatore e invio il messaggio. Vediamo come ho strutturato il messaggio. Serial print message, serial print virgola, serial print cnt deck, deck indica che è un indicimale, e infine serial print ln. Cos'è importante? Perché ho deciso di strutturare il messaggio in questo modo? Perché volevo dirvi due cose importanti. Allora, innanzitutto che se voi volete inviare più di un'informazione all'interno di un unico messaggio, è bene avere un carattere che separi queste informazioni. In questo caso io avevo la stringa message da inviare e poi il valore del contatore cnt. Per separare queste due informazioni ho utilizzato il carattere virgola. In processing quindi saprò che quando trovo la virgola inizia una nuova informazione. In questo modo posso inviare più informazioni in un messaggio e il processing sarà in grado di capire quando inizia e finisce l'informazione e quando inizia e finisce l'informazione successiva. Quindi questa è la prima cosa importante che volevo dirvi. La seconda cosa importante è questa serial print ln che ho aggiunto in fondo al mio messaggio. Perché ho aggiunto un serial print ln? Perché è necessario inserire alla fine del vostro messaggio un carattere che identifichi la fine del messaggio. In questo caso utilizzate il line feed ma potevate utilizzare altri caratteri. A cosa serve questo carattere finale? Serve ad indicare a process che il messaggio è finito. Il messaggio è finito quindi se sulla seriale arrivano dei byte successivi al byte che indica alla fine del messaggio vuol dire che i byte successivi sono i byte appartenenti a un nuovo messaggio. Bene, infine ho introdotto questo delay e vedremo più tardi perché è necessario avere un delay qua. Bene, passiamo al codice scritto in processing. Allora, innanzitutto è necessario importare la libreria per la seriale in questo modo. Dopodiché io ho definito una variabile, un oggetto della classe serial, myPort. Poi ho una variabile di tipo stringa, serial, inizializzata null, che questa conterrà il messaggio ricevuto sulla seriale. Dopodiché ho definito la variabile int end uguale 10. Cos'è questo? Come vi dicevo prima è necessario utilizzare un carattere per dire che il messaggio è finito. Noi avevamo utilizzato nel codice Arduino in line feed e il valore 10 in hash sta proprio per line feed. Quindi questo valore è il valore che identificherà la fine del messaggio. Poi ho definito una nuova variabile di tipo stringa che è il messaggio da visualizzare a video. Bene, nel setup cosa ho fatto? Nel setup definisco la dimensione della finestra e poi, cosa importante, vado a definire il mio oggetto della classe serial con il suo costruttore. Quindi myPort uguale newSerial, this, questo è il parent, serialList 0. Ecco, qui cosa succede? Cosa sto facendo? SerialList è una funzione list che restituisce un array contenente tutte le porte seriali disponibili, tutte le com disponibili sul vostro PC. Ora nel mio caso ho soltanto Arduino connesso al PC, quindi la com attiva è soltanto una. Quindi l'ist restituirà un array di un solo elemento ed è l'elemento che io devo prendere perché è il mio Arduino. Quindi qua prenderò l'elemento di indice 0. L'ultimo elemento qua nel costruttore è la velocità di comunicazione della seriale e deve essere la stessa che avete scelto, che avete impostato nel codice di Arduino. Bene, nel draw, nella funzione draw cosa faccio? Nella funzione draw faccio questo. Finché myPortAvailable maggiore di 0, cosa vuol dire questo? Vuol dire che fino a che ho dei dati disponibili sulla seriale, Available è infatti una funzione che restituisce un valore maggiore di 0 se ci sono dei byte disponibili, fino a che ho dei byte disponibili sulla seriale io vado a leggere quello che ho sulla seriale. Io in questo caso per leggere i dati sulla seriale ho deciso di utilizzare la funzione readStringUntil. Ci sono altre funzioni per la lettura dei dati sulla seriale, ve le farò vedere brevemente dopo sull'help del processing. Comunque questa funzione readStringUntil cosa fa? Legge le string che trova sulla seriale fino a che non incontra un carattere. E quale carattere è questo carattere? È appunto la nostra variabile end, cioè il carattere che abbiamo scelto come carattere identificativo della fine del messaggio, il line feed. Quindi fino a che non incontro questo carattere andrò a leggere quello che c'è sulla seriale e lo assegno alla variabile serial. Quando non ci sono più dati disponibili sulla porta seriale, esco dal while, serial sarà diverso dal null ed entro in questa parte di codice. Qui cosa faccio? Ecco, vedete come utilizzo il mio separatore virgola? Lo utilizzo nella funzione split. Split cosa fa? Dando ingresso alla funzione una stringa e un carattere, split splitterà appunto la stringa data in ingresso in base al carattere, in questo caso virgola. Virgola che era appunto il separatore che noi avevamo utilizzato. Facendo in questo modo otterrò un array di string che sarà nel mio caso un array di due elementi. E quali sono questi due elementi? Sono message e il valore del contatore cnt. Quindi string avrà due elementi e io cosa faccio? Nel message, nella variabile message che quella viene visualizzata, metterò ad0 che sarà message più ad1 che sarà il valore del contatore. Infine serial lo rimetto uguale a null così che posso andare a ricevere un nuovo messaggio. Bene, vediamo il funzionamento. Ho già caricato il codice in Arduino, faccio partire il software processing. Vedete qui è apparsa la scritta waiting perché la variabile message, che è quella che viene stampata a video, era stata inizializzata waiting. E ora cosa sta succedendo? Non sto premendo il pulsante, quindi sulla seriale non sono disponibili i dati, quindi non entro all'interno del while, infatti vedete che qua non viene neanche printato la stringa data available. Non entro qui, silence era uguale a null, quindi non entro neanche all'interno dell'if, l'unica cosa che faccio è stampare il message. Bene, a questo punto se io ora invece vado a premere il pulsante, una volta message 1, vedete il messaggio è arrivato ed è stato printato dal software. Se io ripremo un'altra volta il pulsante, message 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eccetera e così via. Bene, questo è uno dei modi per poter leggere con processing un messaggio inviato sulla seriale da Arduino o comunque un generale, un messaggio inviato sulla seriale. Voglio presentarvene un altro che sfrutta la funzione Serial Event. Ora scommento questa parte di codice, commento questa parte e scommento questa linea. Cos'è Serial Event? Serial Event è un evento della seriale che viene scatenato quando sulla seriale sono disponibili dei byte. Quando quindi sulla porta seriale sono disponibili dei byte e viene chiamato questo evento e viene eseguito ciò che è riportato dentro alla funzione Serial Event. Perché qua ho dovuto aggiungere questo myFort.bufferUntilEnd? Cosa sto facendo con questa istruzione? Sto dicendo alla seriale, alla porta, di non scatenare l'evento Serial Event ad ogni byte ricevuto ma soltanto dopo che avrà ricevuto il carattere di fine messaggio. Quindi i caratteri precedenti, i byte precedenti verranno memorizzati in un buffer. Quando arriva il carattere di fine messaggio a quel punto verrà scatenato l'evento Serial Event e io potrò andare ad elaborare l'intero messaggio ricevuto. Se io questa string, questa istruzione, non la commentassi, vediamo quello che succede. Facciamo ripartire. Waiting, ora premo una volta il pulsante. Vedete che Event, PrintlnEvent, è stata appunto printata tante volte. Tanti quanti sono i bytes che sono stati ricevuti sulla seriale. Ma a me non interessava scatenare questo evento così tanto spesso. Mi interessava scatenarlo solo una volta appunto finito di ricevere il mio messaggio. Quindi se io qua scommento questa linea, quello che succede è questo. Premo una volta il pulsante. Vedete, l'evento è stato scatenato una sola volta, io ho ricevuto il mio messaggio e sono stata in grado di printarlo a video. Questo è un altro modo di andare a leggere i dati ricevuti sulla seriale. In questo caso ho utilizzato appunto l'evento SerialEvent. Nel caso precedente avevo utilizzato la funzione Available per verificare la presenza di dati sulla seriale. Sono due modi diversi e ho voluto mostrarveli entrambi. Bene, se voi andate online sul sito processing.org, nella parte che descrive la libreria seriale, qua vedrete e troverete tutti i vari metodi disponibili per questa classe. Quindi vari metodi di lettura, readstring, readstringuntil che abbiamo utilizzato noi per leggere, readbyse, readbyseuntil, eccetera, eccetera. Insomma, ci sono vari metodi, non ve li sto a descrivere tutti. Noi abbiamo visto il bufferuntil nel nostro esempio, abbiamo visto il readstringuntil e l'evento SerialEvent che viene riportato qua in fondo, qua avete una spiegazione più dettagliata. Bene, un'altra cosa che volevo dirvi riguarda il delay che avevo introdotto nel codice di Arduino dopo l'invio del messaggio. Perché è necessario introdurre questo delay? È necessario introdurre questo delay perché la funzione loop, come sapete, viene eseguita di continuo una volta dietro l'altra. Quindi ad un click del mio pulsante possono corrispondere più esecuzioni alla funzione loop. Quindi in realtà qui dentro ci entrerei più di una volta e verrebbero inviati molti messaggi, quindi più di un messaggio per un solo click del mio pulsante. Perché in realtà la lettura dello stato del pulsante viene fatta molte più volte, tante volte nel momento in cui io l'ho premuto. E questo cosa comporta? Commentiamo delay, carichiamo il software su Arduino. Prima di caricarlo però devo chiudere il software che ho aperto in Processing, altrimenti sarà lui ad occupare la seriale. Ora premo su carica. Una volta caricato il codice, ritorno in Processing. Ora ritorno alla sua condizione iniziale per farvi vedere meglio. Bene. E lancio il software. Se io ora premo il pulsante una volta, vedete che qua viene visualizzato un message 96. Questo vuol dire innanzitutto che sono entrato qui dentro ben 96 volte. E se io vado a vedere qua, nella parte bassa, vedo data available, la scritta data available, ripetuta tantissime volte. E soltanto alla fine serial diverso dal null. Questo perché? Perché Arduino ha inviato di continuo, senza sosta, in questi messaggi sulla seriale. Tanto che siamo rimasti intrappolati all'interno di questo while, perché vi erano sempre dei dati disponibili sulla seriale da leggere. Quindi eravamo continuamente all'interno di questo while, soltanto alla fine, soltanto dopo l'ultimo messaggio inviato, siamo riusciti ad uscire dal while e ad elaborare il nostro messaggio ricevuto. Quindi è necessario, appunto, in questo caso, inserire un ritardo dopo l'invio di un messaggio, in modo che non ne vengano inviati ulteriori messaggi, ma soltanto uno, in corrispondenza di un clic del pulsante. Bene, spero di essere stata sufficientemente chiara riguardo a come far comunicare fra loro Arduino e Processing, in particolare come fare ad inviare dei messaggi da Arduino a Processing. Presto vedremo in un altro video come farli comunicare in modo inverso, quindi a inviare dei messaggi da Processing ad Arduino. Per ora è tutto, vi saluto. Per ora è tutto, vi saluto.